700 milioni di euro da assegnare ai comuni per la messa in sicurezza, la ristrutturazione, la riqualificazione, la riconversione o la costruzione di edifici per asili nido, scuole dell'infanzia e centri polifunzionali per i servizi alla famiglia. E' quanto previsto dall'avviso pubblico emanato nei giorni scorsi congiuntamente dal Ministero dell'Istruzione e dal Ministero dell'Interno, in collaborazione con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con il Dipartimento per le Politiche della Famiglia. Risorse destinate agli enti locali. Ne abbiamo parlato con il deputato del Movimento 5 Stelle Luigi Gallo. 700 milioni di risorse da spendere per gli asili nido, le famiglie, centri polifunzionali per le famiglie e le scuole dell'infanzia. Un'opportunità che i sindaci devono cogliere per tutti i cittadini. Le donne in questo momento sappiamo che vivono più degli altri un problema maggiore perché sentono il peso sia della famiglia, dei bambini, che il peso del lavoro. Io sono dalla parte delle donne che in questo momento stanno anche cercando di riaprire le scuole, facendo ricorsi, costruendo comitati. L'abbiamo chiesto anche a Draghi di aprire più presto le scuole. Nel frattempo però bisogna costruire una comunità solidale che si prenda cura. Non possiamo chiedere impegno demografico più bambini e poi i bambini non riusciamo a costruire intorno una comunità di cura. Per questo il piano di 700 milioni in questo momento in Italia per aprire, soprattutto nelle zone più svantaggiate, nuovi spazi per i bambini è una buona notizia. Un'opportunità per le donne che si trovano a conciliare lavoro e famiglia. Le misure dei fondi europei di 209 miliardi oggi guardano molto a questo problema che nel gergo viene chiamato gender gap, cioè questa grossa differenza tra le possibilità di una donna rispetto a un uomo in tutti gli ambiti, a partire da quello lavorativo. Quindi ci sarà un grosso investimento. E se noi non costruiamo degli spazi di cura, delle famiglie, di supporto, naturalmente insieme a opportunità occupazionali per le donne non affrontiamo le disuguaglianze che sono forti in questo momento.